Lo dicevamo nei titoli, ambulanze e onoranze funebri nelle mani dei clan, 11 misure cautelari, sequestro preventivo di beni per 16 milioni anche in Romania, perché nell'inchiesta della Procura di Salerno per la prima volta si applica il regolamento comunitario sulla reciprocità dei sequestri. Vincenzo Perone. Un carosello di ambulanze per festeggiare nel comune di Capaccio la vittoria elettorale del sindaco Alfieri, che non è indagato in questa inchiesta. Era il 9 giugno 2019 e quelle immagini fecero il giro del mondo per la vergogna di sottrarre mezzi di soccorso all'assistenza dei malati per compiacere un politico. Dietro quelle ambulanze c'è un imprenditore salernitano vicino al clan camorristico di Giovanni Marandino che attraverso una girandola di società, associazioni Ollus e una schiera di prestanome che gli schermavano le attività criminali sull'asse Salerno-Zimbor in Romania aveva acquisito un potere economico di dimensioni abnormi. Questa fila di ambulanze è una cosa che mi mancava. La fantasia della criminalità organizzata napoletana è nota. La squadra mobile di Salerno e il servizio anticrimine della polizia coordinati dalla procura della Repubblica di Salerno ha arrestato 11 persone, tra cui l'imprenditore Roberto Squecco, sequestrati in via preventiva beni e assetti societali per un valore di 16 milioni di euro. In contemporanea noi agiamo penalmente e agiamo sotto il profilo della misura della prevenzione. Colpiamo il patrimonio al massimo della nostra potenza di fuoco e facciamo gli arresti. L'imprenditore, già condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso, la cui moglie risultata prima eletta al Consiglio Comunale di Capaccio, aveva conquistato, con l'intimidazione alle imprese concorrenti, il monopolio delle onoranze funebri nei comuni cilentani di Agropoli, a Cerno e Capaccio, oltre ad avere per il soccorso infermi una solida convenzione da anni, con la ASL di Salerno. Quasi 30 ambulanze sequestrate, croci azzurre della Piana del Sele, terreni immobili, caseifici, appartamenti a Zimbori, Romania, e che per la prima volta, grazie al nuovo regolamento comunitario sulla reciprocità di sequestri nei paesi dell'Unione, le autorità rumene hanno eseguito senza indugi. Questa è un'innovazione, le mafie investono all'estero, può essere efficacemente combattuto grazie a queste normative. Attraverso la pianeta SRL, Squecco aveva comprato terreni a Capaccio da lottizzare per la costruzione di un parco divertimenti a tema con l'intervento delle amministrazioni di Agropoli e Capaccio.